ciao a tutti amici di drama view eccoci qua subito di ritorno dopo la presentazione del terzo film di lamu andiamo a scoprire il quarto film ovvero forever ultimo titolo se non erro delle uscite per quanto riguarda i film di lamu rieditati in alta definizione da anime factory e yamato video con distribuzione coach media e come per il precedente anche in questo caso abbiamo una splendida slip di cartone vedete qui c'è proprio scritto movie 4 sopra c'è la scritta forever lamu la ragazza dello spazio anche sotto e poi da questa parte abbiamo la parte dove estrarre lamarai cicciottosa con il film e le card devo dire che anche in questo caso la qualità è notevole molto molto buona nella stessa fattispecie come il precedente se guardate il tra l'origine giapponese noterete un po' una differenza nell'utilizzo dei filtri però la qualità resta comunque molto molto alta questa è la cover principale della marai come vedete abbiamo l'artwork principale privo di qualunque scritta da questa parte come al solito la controparte giapponese e poi all'interno abbiamo le card che in questa in questo film in questa edizione sono tre e non due e poi il disco blu ray ovviamente le card come al solito sono custodite in questa bustina che io al momento ho tenuto separata per mostrarvi le card nella maniera più facile possibile sono veramente molto molto belle partiamo da questa guardate che sciccheria dall'altra parte abbiamo solo la scritta come per le precedenti uscite poi abbiamo l'artwork principale molto molto bello e poi per finire abbiamo quest'altra immagine probabilmente è quella che mi piace di meno però è quella che proprio fa parte proprio del film è praticamente un'immagine del del film ovviamente c'è che l'avete già visto il disco blu ray e poi come potete vedere c'è lo sfondo in questo caso violaceo con le stelle come per le precedenti uscite per questo video ragazzi è tutto se vi è piaciuto mettete un bel like come al solito se vi fa piacere seguirmi iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati sulle prossime uscite nei dettagli trovate anche tutti i dettagli sull'edizione ma anche i link per l'acquisto su amazon e dvd store che sono i miei due punti di riferimento e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti